Ciao ragazzi bentornati sul canale di mca mondo carriera allenatore io sono sempre andre e oggi siamo qua con il secondo episodio perché ormai è diventata una serie ragazzi dei talenti falliti ad oggi dei migliori talenti falliti ad oggi diciamo così eh ragazzi perché il primo episodio vi è piaciuto tantissimo non mi aspettavo questo grande supporto diciamo vi è piaciuto tanto e allora ho deciso di portarvi anche un secondo episodio purtroppo ragazzi qua ci sono ben due italiani è sempre un dispiacere sapete io ci tengo veramente tantissimo agli italiani che facciano bene e tutto il resto quindi vedere quando subiscono downgrade o quando appunto diventano tra virgolette talenti falliti o comunque dei talenti che non hanno rispettato un potenziale che magari ha il tempo poteva essere un po' troppo sempre un po' mi dispiace ma senza perdere altro tempo iniziamo subito con il primo che è Zakaria Labiad questo giocatore era molto molto interessante in FIFA 12 quindi qua stiamo parlando di veramente tanto tanto tempo fa ragazzi quasi 10 anni fa però era un giocatore che nel 2012 appunto aveva 87 di potenziale era un alla destra giocava nel PSV Andoven e aveva 92 di velocità 85 di tiro 88 passaggio 90 driving cioè veramente era un giocatore che arrivato al suo potenziale era veramente straordinario non che adesso sia un giocatore diciamo malvagio eh cioè ragazzi comunque un buon giocatore perché è all'Ajax quindi non è in una squadra diciamo qualsiasi un giocatore che ad oggi può fare il trequartista alla seconda punta o ancora alla destra anche se chiaramente ha perso diciamo tutta la velocità che aveva prima però comunque 5 di piede debole 4 di abilità non è assolutamente male 75 di overall 27 anni 6 milioni di valore 15 mila come stipendio settimanale comunque una buona accelerazione anche come trequartista come seconda punta come ala ragazzi chiaramente non è il massimo dal punto di vista tecnico però veramente molto interessante è veramente fortissimo e in più tre caratteristiche speciali tiro di precisione classe e tiro da fuori veramente un giocatore straordinario molto interessante ancora anche se magari non col potenziale di una volta Luca Spiazon ragazzi questo giocatore qua secondo me qualcuno di voi già lo conosce eh diciamo un po' di più è un giocatore che comunque ha fatto anche il Chelsea quando era giovanissimo ora 26 anni quindi non è proprio vecchiotto ma è un talento fallito perché nel FIFA 14 quindi anche di qua stiamo parlando di qualche anno fa aveva 86 di potenziale erano alla sinistra giocava nel Vitesse e aveva 86 di velocità 81 di tiro 83 passaggio 89 dribbling cioè era veramente fortissimo ad oggi invece è diventato diciamo un alla destra quindi ha cambiato fascia comunque 4 di debole ci sta assolutamente è un giocatore però con 72 di overall quindi dall'86 di potenziale che aveva a un misero tra virgolette 72 è un giocatore da 2 milioni e 6 di valore gioca nel Braga diciamo che per fare l'ala non è sicuramente il giocatore più veloce che potreste mai trovare potreste utilizzare anche su questo gioco poi dal punto di vista tecnico sicuramente non è il giocatore che ci si aspettava ha due caratteristiche speciali che sono tiro di precisione e classe però sicuramente non è il Piason di FIFA 14 Richli Basoer ragazzi questo ragazzo qua giocatore del Vitesse praticamente il contrario di Piason che era una grandissima promessa al Vitesse poi ha cambiato e ora è al Braga invece Basoer è ora al Vitesse ma ora è un talento fallito tra virgolette perché comunque è un giocatore ancora molto utilizzato è fallito perché nel 2016 comunque ragazzi c'era 23 anni quindi è giovanissimo però in FIFA 16 quindi era appena stato aggiunto al gioco aveva 88 di potenziale era veramente tantissimo olandese giocava all'Ajax poi ha girato il Forsburg è andato al Porto è andato all'Utrecht e ora al Vitesse comunque un giocatore che può fare il difensore centrale o il mediano 7 milioni e 5 di valore una clausola comunque di quasi 12 milioni è un difensore centrale o mediano di 1,84 per 74 kg con i piedi molto buoni 4 i piedi debole e 3 di abilità per quanto riguarda l'aspetto fisico ha veramente delle statistiche molto interessanti comunque 23 anni può ancora crescere e anche dal punto di vista tecnico controllo a palo 82 passaggio lungo 83 ve l'ho detto è un giocatore molto tecnico però guardate anche la potenza tiro il tiro dalla distanza il contrasto in piedi è un giocatore veramente completo con 4 caratteristiche speciali roccia passaggi lunghi tiro da fuori e tiro da esterno sicuramente è un talento fallito ma molto molto facile diciamo da riesumare e far tornare quello di FIFA 16 poi passiamo a un giocatore che non c'è più su FIFA infatti vi mostrerò soltanto diciamo la grafichetta ovvero Victor Ibarbo o Ibagbo come lo chiamavano un tempo su FIFA 14 ragazzi attaccanti giocava il Cagliari era veramente un mostro 86 di potenziale aveva un giocatore con 96 di velocità 84 tiro 88 dribbling tutto questo ormai su FIFA 21 chiaramente non ce l'abbiamo ma è un giocatore con 67 di overall la velocità è rimasta la stessa però tutto il resto sicuramente l'ha perso è un giocatore che comunque si era fatto il Cagliari dove era al massimo anche la Roma non aveva fatto assolutamente male poi Watford quindi occasioni in premier poteva fare benissimo poi però sempre più in discesa fino al Sagantosis ragazzi come si chiama questa squadra non lo so però veramente un peccato per Ibarbo Alexander Merkel invece qua torniamo su FIFA abbiamo questo giocatore che giocatore adesso al Faisali veramente una squadra che non ho mai sentito ragazzi scusatemi giocatore del Kazakistan 28 anni 68 di overall al momento ma torniamo un bel po' indietro a FIFA 12 questo giocatore giocava nel Milan assurdo eh ragazzi se vogliamo vederlo così e in più aveva come nazionalità la Germania quindi veramente ha cambiato tutto questo giocatore che anche al Genoa è passato all'Udinese Watford anche lui come Ibarbo poi è andato al Pisa addirittura quindi praticamente la Serie A e comunque l'Italia se l'è girata molto eh però ora è andato a finire al Faisali un giocatore comunque da un milione e due di valore 68 di overall come abbiamo già detto una mezzala però che sinceramente non ha niente di più rispetto a molta gente che potreste trovare tranquillamente tutti i giorni però ha quel tocco in più che era un talento se volete un po' riesumarlo non sarebbe assolutamente una bruttissima scelta però dovreste un po' fare un po' di lavoro su di lui Tio Wolcott ragazzi qua arriviamo a un giocatore pazzesco secondo me veramente uno dei talenti falletti probabilmente maggiori o più importanti perché talenti falletti fino a un certo punto non è che è andato malissimo come giocatore anche adesso che all'Everton non è sicuramente un giocatore da buttare via ha comunque ormai 31 anni non è più giovane anche se come vedete dalla faccia o anche se lo conoscete in realtà è veramente un giovanotto però sinceramente è un giocatore interessantissimo ora comunque torniamo indietro nel tempo andiamo in FIFA 10 cioè ragazzi 11 anni fa aveva 88 di potenziale 99 di velocità 83 di tiro giocatore dell'Arsenal che era veramente una forza della natura era probabilmente l'inglese giovane più forte che c'era un po' come Rashford ora un po' come Foden insomma era quel tipo di giocatore ora però sicuramente un po' andato a calare all'Everton comunque o comunque a 31 anni ci sta che abbia questa discesa anche se comunque la velocità è comunque rimasta abbastanza invariata ha una buona potenza a tiro finalizzazione 70 ci si può lavorare assolutamente un 76 di overall da non buttare e il driblatore veloce come caratteristica speciale Andrea Ranocchia eccolo qua il primo italiano che andiamo ad analizzare il talento fallito tra virgolette nel senso che comunque è un talento fallito anche lui ormai ha 32 anni quindi ci sta che abbia fatto una discesa però discesa che di certo non è iniziata quando è arrivato a 30 anni un giocatore che e poteva essere tantissimo nel senso che c'erano tante aspettative su di lui quando giocava al Bari al Genoa alla Samp lo stesso Inter all'inizio poi chiaramente è diventato un po' ed è andato un po' a scemare tornando dietro nel tempo FIFA 12 88 di potenziale verrà detto era veramente un giocatore pazzesco ora 2 milioni e 7 di valore 74 di overall con queste statistiche veramente un giocatore poco 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 utilizzabile su questo gioco purtroppo le ali eccolo qua il secondo giocatore italiano che però purtroppo dovremmo guardare soltanto attraverso la grafichina purtroppo anche lui un talento fallito forse uno dei portieri italiani il cui andamento è andato sempre di più a peggiorare è un giocatore comunque del Brescia poi della Juve poi lo Spezia Cesena Brescia Panatenecos ha girato veramente un sacco di squadre fino all'Ascoli dove è ora con in FIFA 12 88 di potenziale veramente era assurdo però adesso un 70 di overall veramente veramente triste ma l'ultimo di questa top è chiaramente Karius forse quello che più di tutti conoscerete perché è veramente un giocatore che ha fatto una discesa pazzesca ma tutto in pochissimo tempo ragazzi a Liverpool era veramente sembrava il nuovo portiere il nuovo Alisson tra virgolette che è ovviamente precedente ad Alisson però ragazzi poi con quella finale di Champions veramente è andato a scemare ha perso tutto quello che poteva fare tutto quello che sapeva fare l'ha perso o magari era soltanto in una stagione positiva e poi è andato chiaramente a scemare col tempo è venuto fuori il vero Karius sta di fatto che in FIFA 17 proprio appunto nella finale eccetera nella finale 87 di potenziale quindi era veramente un portiere molto interessante adesso un 75 con un 78 di overall insomma un po' scarso ormai questo Karius che gioca all'FC Union insomma un po' è andato a scemare e non poco ma comunque è un giocatore che potrebbe essere abbastanza interessante per le vostre carriere perché comunque vale 5 milioni e 5 quindi neanche troppo quindi ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video spero abbia trovato interessante commentate con quale di questi giocatori proverete un po' a riesumare dalle ceneri dei loro talenti falliti commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un mi piace e ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi